Nuovi provvedimenti sul tema della famiglia in Piemonte approvati in consiglio regionale. Nell'aula di Palazzo Lascaris è stata votata la nuova legge che prevede azioni per valorizzare e promuovere la famiglia e la genitorialità. Tra le iniziative previste l'ampliamento delle competenze dei centri per le famiglie e l'istituzione di distretti per la famiglia, ossia circuiti dentro i quali enti locali e associazioni promuovono la famiglia, in particolare quella con figli. La legge, che ha come primo firmatario il consigliere del Partito Democratico Daniele Valle, prevede anche un coordinamento regionale dei centri e una consulta regionale ad hoc e si propone di migliorare la conciliazione dei tempi della famiglia con quelli del lavoro, di migliorare i servizi per le famiglie con l'introduzione di procedure telematiche e anche di promuovere interventi sugli asili nido comunali. Valorizzare l'invecchiamento attivo e istituire una giornata regionale a esso dedicato il 22 aprile, ricorrenza della nascita di Rita Levi Montalcini. Lo prevede il testo unificato di tre proposte di legge presentate dai gruppi di Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, approvato dall'Assemblea regionale. Il provvedimento, illustrato in aula dai relatori di maggioranza Domenico Ravetti, Partito Democratico e Davide Bono, Movimento 5 Stelle, si propone come strumento per migliorare la partecipazione alla vita sociale e culturale da parte degli anziani, intervenendo in ambiti come le politiche familiari, la formazione permanente, la prevenzione sanitaria, la cultura e il tempo libero. L'Assemblea ha infine approvato una proposta di legge per l'istituzione del nuovo fattore famiglia, uno strumento che ha come obiettivo la lotta alla povertà ed è rivolta in particolare alle famiglie numerose o con persone disabili o anziani non autosufficienti a carico. Il decreto, che ha come prima firmataria, la consigliera del Partito Democratico, Valentina Caputo, si propone come strumento integrativo per accedere ai servizi regionali nel rispetto della normativa ISEE. È previsto un fondo regionale di 200 mila euro all'anno fino al 2021 per permettere agli amministratori locali di compensare le spese derivanti dalle agevolazioni sui costi dei servizi compresi nel provvedimento. È stata invece bocciata la proposta di legge sullo stesso tema, licenziata da Forza Italia e due provvedimenti a firma del consigliere Gianluca Vignale, Movimento Nazionale per la Sovranità, sulla vaccino-vigilanza attiva e sulla rimodulazione della dotazione di posti letto ospedalieri.